oggi con l'apropane eccolo buongiorno stavo facendo quindi con l'apropane si va con l'integrale perché stava troppo veloce va guarda il casco sta facendo sempre così aspettiamo ci sono stati dei boomer che ci hanno superato così senza ritengo aspettiamo la punivia e dopo inizia la salita la salita c'è salita non così lunga come l'ultima volta 1800 metri ma siamo arrivati all'inizio della traccia buongiorno bello vai 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 postazioni antiaeree passazione flat quindi ci facciamo il pallone c'è una flat mac Ma... che pelo che l'hai fatto, vecchio! Eccolo, signori! Achtung! Eccolo! 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 Ok! E dico come punta! Attenzione! C'è! Che leprotto! Vedete il sentiero? Vedete il sentiero? Di lo vedo! Questo è un nostro simile! Eh! Questo! Questo mi sembra... Sì! Questo è... Questo io me lo ricordo! Mi sa che l'ha fatto... Un amico! Bravo! Uhuh! Grande! Il sasso! Il sasso diceva che alla fine non era molto amichevole! Sì! Questo è stretto! Eccolo! 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 C'è! C'è? ci facciamo gli attenti bene ora quasi scende occhio mi fa venire un po le vertigine vederti da sopra l'atema rosenkarten e poi niente poi ci siamo noi questa forse d'inverno si oltreve fare quanta neve eccoci al santuario di pietralba sinceramente non pensavo che ci saremmo arrivati eccolo qua corno bianco sempre santuario si spinge perché il tracciatore è un po così andiamo a patinare allora la chiesa lì bellissima come che fatica wow destra wow 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 ma che bello grande figo che fatica wow questa è tutta la circolazione che è la circolazione che si riattiva ragazzi si faceva si faceva andiamo a beccare bene ma questa è la casetta del trail builder abitava qui ok 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 facendolo piano si fa ok 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 grazie buona passeggiata ok 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 c'è una voglia di prendere sassate giganti sul telaio in carbonio non la faccio più con calma Appena detto eh Sono amassassata Fortuna che qua sotto è bello Per prendere le sassate sul terraio è perfetto questo sentiero Wow Percorso completato Bene 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 Commodazione Grazie a tutti